Dunque, io ho pensato a questo tema perché essendo vicini al Natale, che ormai il Natale poi si anticipa sempre un po', e allora forse un tema tra Oriente e Occidente poteva essere proprio partire non solo dei testi canonici che è il Vangelo di Matteo, ma uno degli oggetti canonici della nostra cultura, cioè il presepio. Allora voi sapete che la notte del 5 gennaio è una notte fatidica, non solo perché è la dodicesima notte, è il twelfth night negli anglosassoni e della commedia di Shakespeare, ma perché è la notte in cui si mettono i reimmaggi nel presepio. Questo è il momento in cui, canonicamente, fa un grande rimbombo questo microfono però, eh? Può provare a... eh? Più vicino? Mi dicono più vicino dal fondo, ecco, va bene. in cui si mettono i reimmaggi nel presepio. Ma chi sono questi magi? Beh, i magi sono i personaggi forse più caratteristici del presepio, perché, vabbè, se si esclude Giuseppe, Maria e il bambinello, gli altri sono delle comparse, delle figure, gli angeli. Gli angeli sono degli angeli, ma non hanno un'individualità. Eh, i pastori sono i pastori. Non parliamo poi di tutti gli altri personaggi, le acquagiole, il mugnaio, che stanno distribuiti nel presepio, che nessuno di questi ha un'individualità. Mentre i magi sì. Sappiamo come si chiamano, Gasparre, Melchiorre e Ballassarre, e poi sono vestiti in quel modo orientale, a volte hanno anche coloro i cammelli. Sono dei personaggi che si distinguono, che si staccano, diciamo, dal resto della scenografia. Questi magi hanno una storia. Abbiamo una storia abbastanza lunga e interessante perché ce ne possiamo rendere conto subito guardando il testo da cui tutto comincia. Il Vangelo di Matteo. Gesù nacque a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode ed ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. A lui dire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli iscrivi del popolo si informavano da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero a Betlemme di Giudea perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li invitò a Betlemme dicendo Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re e si partirono ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode fece lo ritorno al loro paese per un'altra strada. Ora, questo racconto è proprio un racconto scolorito. Non ci dice nulla sui magi non ci dice il numero quanti erano non ci dice come si chiamavano non ci dice minimamente se fossero abbigliati in un qualche modo e poi non so se avete notato loro vanno in una casa questa è una versione molto diversa dalla grotta o dalla capannuccia che peraltro non è mai menzionata nei Vangeli si dice solo la mangiatoia qui non c'è la mangiatoia c'è la casa insomma è chiaramente una storia diversa in cui compaiono però queste figure che sono chiaramente molto importanti tant'è vero che vanno anche da Erode insomma hanno un loro ruolo ma sono del tutto anonimi ma chi sono i Magoi? Ho i Magoi come li chiama il Vangelo? Beh, per i Greci per Erodoto Ho i Magoi sono una parte diciamo una delle tribù in cui era diviso il popolo dei Medi nel greco classico però Ho i Magoi sono o i Maghi nel senso proprio dei Maghi gli stregoni quelli che fanno magia oppure dei sapienti orientali e nel greco biblico sono presenti anche i Magoi e sono dei veri e propri Maghi quelli che vengono nominati basta pensare a Simon Mago è uno che fa delle magie e così il Mago Illumas di cui si parla negli Atti degli Apostoli quello che Paolo sconfigge con la forza della divinità che è in lui c'è uno scontro di forze soprannaturali in questo caso e Simon Mago faceva effettivamente effettivamente delle magie ora per capire un po' meglio questo mondo è sempre opportuno cercare di entrare il più possibile dentro i testi che si studiano dentro le culture che si studiano rendiamoci conto che nel primo secondo secolo che è il nostro orizzonte culturale la magia è una cosa seria è presa sul serio si crede nella magia non è un qualche cosa come per noi che immediatamente evoca la charlataneria sì anche evoca anche il charlatano ma evoca anche colui che veramente possiede delle forze superiori tant'è vero che negli Atti degli Apostoli si incontrano dei veri Maghi che sanno veramente produrre degli effetti meravigliosi e così questi taumaturghi come Apollonio di Tiana che era celeberrimo alla sua epoca anche lui era uno che compiva si credeva che compissi opere meravigliose ressuscitava i morti come Gesù quindi dobbiamo entrare in questo orizzonte culturale un mondo in cui alla magia si presta si presta fede allora il problema è questo perché mandare dei Maghi a onorare Gesù per quale motivo beh le interpretazioni sono state varie non credo che riusciremo mai a capire bene perché questo avviene qual è il senso che Matteo l'unico evangelista che parla di Maghi vuole dare a questo avvento il primo la prima interpretazione che posso ricordare molto affascinante è quella di Morton Smith Morton Smith è stato un grande cristianista molto discusso anche negli Stati Uniti ha avuto molti avversari perché aveva delle tesi molto ardite molto forti aveva per esempio scritto un libro il Vangelo segreto in cui lui diceva di aver ritrovato un pezzo di Vangelo di Marco che era andato sbarrito che non era stato incluso nel insomma forse l'aveva scritto lui era scritto talmente bene in greco che questo Morton Smith deve essere stato lui era bravissimo comunque la sua ipotesi sui Maghi è questa che in realtà anche Gesù al tempo suo nell'orizzonte in cui noi dobbiamo cercare di entrare nuovamente non dopo duemila anni di cristianesimo ma all'inizio anche Gesù era ritenuto un mago era ritenuto un mago questo lui cerca di dimostrarlo attraverso il Vangelo di Marco e altre testimonianze anche esterne per cui diciamo questa sarebbe la prova del fatto che i Maghi anche che Gesù è un mago il fatto che i Maghi vengono ad onorarlo dall'Oriente i Maghi riconoscono in Gesù il Maestro dei Maghi quindi secondo lui questa rappresentazione di Matteo significava questo un'altra invece di un altro cristianista Gesa Vermes il quale dà un'interpretazione diversa e lo fa con l'autorità di una profezia biblica che sta nel libro dei numeri questa è riferita al profeta Balaam che è un profeta che gli ebrei inizialmente tentano di tirare la loro parte perché anche lui aveva dei poteri superiori per maledire i suoi nemici poi in realtà lui non lo fa non maledice i nemici di Israele anzi li sostiene e pronunzia una profezia che è in qualche modo favorevole a Israele gli dice io lo vedo ma non ora io lo contemplo ma non da vicino una stella spunterà da Giacobbe e uno scettro sorgerà da Israele spacca le tempie di Moab i nemici di cui parlavo e il cranio di tutti i figli di Seth cosa c'entra con i maghi questo? c'entra perché già nella traduzione dei settanta la traduzione greca della Bibbia non si dice una stella non si dice che uno scettro sorgerà da Israele ma un uomo sorgerà da Israele e questo anche nell'esegesi rabbinica più o meno antica contemporanea quindi Balaam avrebbe profetizzato che un giorno da Giacobbe sarebbe spuntato uno scettro per Israele e un scusate una stella per Israele appunto la stella che i magoi vedono per andare e un uomo chi è quest'uomo? si dice subito quell'uomo è appunto il Salvatore è appunto il Salvatore e quindi i magi del Vangelo sarebbero dei discendenti dei parenti un'allusione a questo Balaam che aveva intuito per primo l'avvento del Salvatore e lo dice già uno dei padri della Chiesa Origene il quale fa proprio questo rapporto di parentela si dice che Balaam sorse da Balaam sorse la stirpe e la casta dei magi la quale era fiorita in Oriente essi ebbero in loro possesso le scritture che contengono le profezie di Balaam quindi hanno in mano un qualcosa di molto prezioso compresa quello che dice una stella spunterà da Giacobbe un uomo sorgerà da Israele i magi conservavano presso di sé queste scritture di conseguenza quando nacque Gesù essi riconobbero la stella e compresero che la profezia si era avverata quindi all'origine di questo episodio dei magi secondo origine ci sarebbe stato il fatto che i maghi erano della stirpe di Balaam quello che per primo aveva intuito che sarebbe nato il Salvatore e per primo aveva parlato della stella che avrebbe guidato a lui altrove però lo stesso origine dà un'interpretazione più seducente più affascinante della della vicenda dei magi perché qui veramente i magi sono dei maghi infatti secondo il racconto di origine sarebbe avvenuto a che i magi un certo giorno tentarono di mettere in opera i loro abituali i sortilegi ma si accorsero che erano diventati inefficaci constatato il fallimento ne dedussero che un grande avvenimento dovesse essersi verificato e osservando un cielo un segno divino la stella si misero dunque in cammino verso Betlemme ma per quale motivo i magi quel giorno avevano perso tutti i loro poteri come dice Origine e Origine ce lo spiega era a motivo della forza di Gesù e della divinità che era in lui cioè nascendo Gesù aveva fatto perdere il potere dei magi e allora i magi trovandosi di fronte a questa debacle erano partiti e seguendo la stella erano andati a trovare il piccolo Gesù quindi questa Origine che partecipava a differenza nostra di quella cultura che vi dicevo prima mette strettamente in rapporto Gesù e il potere dei maghi quello nascendo lui è talmente più potente dei maghi che gli fa perdere i poteri però c'è una connessione tra il potere divino di Gesù e quello dei maghi Origine in un certo senso dà ragione a Morton Smith quando dice in realtà Gesù stesso era considerato un grande mago al momento in cui il cristianesimo ha inizio poi diventa tutta un'altra cosa come sappiamo diventa una chiesa una religione di tutto quello che conosciamo noi però qui dobbiamo pensare che siamo al momento in cui tutto comincia in ogni caso qualunque sia l'interpretazione che vogliamo dare a questo episodio è chiaro che i maghi vanno da Gesù per come dire sigillare confermare la sua straordinaria divinità l'Oriente si muove e va da Gesù e riconosce questo il vero Dio oggi è nato il Salvatore questo sembra di capire al di là delle singole interpretazioni che possiamo dare in ogni caso bisogna tener conto che in tutto il mondo antico la nascita di un grande personaggio spesso è accompagnata dal sorgere di una stella e questo è il caso per esempio dell'imperatore Augusto è il caso di Alessandro Magno in molte tradizioni addirittura nella tradizione egiziana Alessandro Magno è figlio direttamente figlio di un astrologo Nektanebo di un mago e quindi come si vede questa stella che ha un ruolo così importante in Matteo tanto da guidare i maghi fino da Gesù risponde a un tipo mitico ben definito che è quello di far accompagnare la nascita di un personaggio straordinario dall'avvento di una stella ugualmente straordinaria ora noi quando mettiamo la cometa in testa alla grotta di Cartapesta in testa alla capannuccia non pensiamo più a quello che stiamo facendo ma in realtà stiamo riattivando un mito molto antico cioè una stella annuncia l'avvento di un uomo straordinario ora possiamo porci tre domande sui maghi o magi come mai meglio chiamarli perché come vedremo poi si distaccano da questa caratteristica innanzitutto perché sono tre e Matteo non dice quanti sono perché diventano tre e poi come mai diventano re Matteo si guarda bene dal dire che sono dei re per lui sono dei magoi basta infine questi nomi che portano Melchiorre Baldassarre Gaspare o Gasparre glieli dà perché certo non glieli dà Matteo qui siamo di fronte chiaramente alla creazione di una tradizione è anche un'indagine noi la facciamo brevemente ma è un'indagine affascinante perché si vede sorgere man mano si vede sorgere un mito si vede sorgere una tradizione no? e in genere la maniera peggiore per interpretare le tradizioni i miti gli aspetti caratteristici di queste creazioni culturali la maniera peggiore è affidarci al buonsenso come invece molto spesso si fa perché ci si può affidare al buonsenso qui? sì perché sono tre beh è ovvio fanno tre doni no? quindi automaticamente diventano tre e poi per quello che riguarda il fatto che sono re beh vanno vanno dal re Erode che si mostra molto interessato a questo bambino il bambino stesso è un bambino straordinario uno può dire avranno fatto diventare re anche loro io ripeto il buonsenso in queste cose non ci credo quanto ai nomi qui nemmeno il buonsenso e ci dice nulla perché Mecchiorre Gaspare Valdassare perché? allora cominciamo dal numero è anche possibile che siano tre perché tre sono i doni e in effetti se voi vedete questo bellissimo mosaico molto celebre no? quello di Santa Pollinare vedete che i magi sono tre ovviamente paludati come noi ce li immaginiamo quindi qui siamo più o meno nel sesto secolo si è consolidata la tradizione dei tre magi però se voi guardate quest'altro vi scuso per la qualità dell'immagine ma era quella che avevo nella catacombe dei santi Marcellino e Pietro che è della fine del terzo secolo e qui immagini sono due non sono tre e nella nelle catacombe di Domitilla quarto secolo purtroppo non ho un'immagine da mostrarvi sono quattro in Oriente nelle tradizioni orientali che sono molto ricche riguardo ai magi diventano fino a dodici i magi come gli apostoli no? quindi vedete che in realtà il buonsenso non ci dice nulla di buono no? tanto per per cambiare perché perché il numero dei magi varia e vediamo il problema dei re anche qui diffido del buonsenso e mi affido piuttosto a una forma di filologia che forse è un po' più attendibile che non ha il buonsenso allora qui però bisogna fare una premessa se uno vuole capire come funzionano questi testi e questa cultura si deve entrare al solito nei quadri mentali di un padre della chiesa di uno scrittore negli inizi del cristianesimo in cui ha un'importanza fondamentale la risonanza scritturale cioè leggere un certo testo una certa profezia soprattutto immediatamente la mente di chi di chi legge di chi studia salta fa un'analogia con un altro passo delle scritture le scritture sono un po' come un'arpa in cui suonando una corda risuonano tutte ne risuonano anche molte altre d'altra parte queste persone conoscono a mena dito il testo sacro ora le analogie che creano sono per noi analogie totalmente arbitrarie quindi quando io ho detto mi affido alla filologia non certo alla filologia dei primi cristiani ma a quella nostra che studiamo il modo di pensare di queste di queste persone no allora nel caso dei magi l'analogia che si voleva stabilire è questa con una profezia di Isaia prima che il bambino sappia dire papà e mamma quindi è un neonato riceverà la virtù di Damasco e le spoglie di Samaria davanti al re di Assiria ora a parere di Tertulliano questa profezia di Isaia è si riferiva direttamente a la visita dei magi questo volevano dire secondo lui Isaia non dimentichiamo che per Tertulliano queste parole hanno un valore profetico rimandano ad altro rimandano a quello che avverrà nel futuro insomma è una profezia e continuava in questo modo come il Salmo di Davide dice anche i re degli arabi e Saba gli porteranno doni questo è il Salmo di Davide i re di Saba e degli arabi e di Saba gli porteranno doni ecco che Tertulliano metteva insieme questi testi diceva vedete qui si sta profetizzando quello che dice Matteo in lui fa una sua polemica contro i marcionisti contro gli ebreli vedete che le scritture già preconizzavano l'avvento del bambino Gesù di Gesù che i Vangeli già dicono la verità perché le profezie già lo dicevano eccetera eccetera ora Tertulliano commentando scrittore del terzo secolo dopo Cristo commentando questa profezia e l'altra di Davide che vi ho letto i re degli arabi e Saba gli porteranno doni diceva per lo più l'Oriente ebbe i magi come re e Tamasco era un tempo considerata parte della Samaria eccetera eccetera quindi eccolo è lui che dice per lo più in Oriente i magi erano considerati re i magi erano i re dell'Oriente quindi qui si comincia a inoculare l'idea che i magi siano dei re tanto più che subito prima del pezzetto del Salmo di Davide che vi ho letto si dice i re di Tarsis e le isole offriranno doni i re degli arabi e Saba gli porteranno doni lo adoreranno tutti i re in realtà Matteo poverino non dice nulla di simile però adesso con queste profezie Davide e Isaia pian piano questi che portano doni al bambino diventano re si 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 modifica l'immagine no? si quindi è Tertulliano che inaugura la qualifica di re per i magi e questo devo dire può darsi che abbia anche un sottile valore ideologico una singola astuzia perché ai primi scrittori cristiani dava fastidio questo fatto che dei maghi fossero andati a onorare Gesù la magia non ci stava bene lì Origene ancora pensa che invece va bene cioè che è una dimostrazione del fatto che Gesù è potente perché sgonfigge i magi mentre adesso sarebbe preferibile che non fossero dei maghi e quindi comincia ad avere fortuna l'idea che siano maghi nel senso che tutti gli orientali hanno per re dei maghi dei magi e per cui i magi sono re anche nel quarto secolo un poeta cristiano giovenco dice è un agente d'oriente prossimo al nascere del sole esperta nel sorgere nel tramentare degli astri i cui signori portano i nome di magi quindi vedete anche qui si associa alla conoscenza degli astri eccetera al fatto che sono i primores che sono i re e questa poi questa caratteristica di essere re nella tradizione orientale dei magi avrà una fortuna grandissima addirittura in queste versioni che sono una quantità enorme i magi arrivano a Betlemme a cavallo guidando i loro eserciti come vi dicevo sono a volte fino a 12 e quindi sono dei veri proprio re sontuosamente vestiti con un seguito eccetera eccetera ma questo però non entra nella tradizione occidentale nella nostra tradizione i magi diventano re ma restano soli non c'hanno addirittura un esercito a loro seguito passo all'ultima delle domande ma quando nascono i nomi perché per ora non li abbiamo incontrati nessuno di questi gli ha dato un nome beh c'è un uno strano testo che va sotto il nome di excerta latina barbari cioè riassunti o frammenti latini di un barbaro cioè di uno che il latino non lo sa questo sostanzialmente vuol dire perché effettivamente è scritto in un latino pessimo quindi probabilmente qualcuno forse un greco che sta traducendo dal greco e traduce un po' come gli viene però ci dà un'informazione importante l'anonimo in quei giorni al tempo di augusto ma le calende di gennaio i magi gli offrirono doni e lo adorarono i magi si chiamano bitisarea melchior e gataspa ora c'è un l'editore inglese di questo testo dice mamma mia che spelling dice in effetti questi sono terribili come spelling però rassomigliano già tanto ai nomi che gli diamo noi più o meno anche se non sono assolutamente uguali delle informazioni molto migliori e molto più interessanti se le dà invece un testo che più o meno al settimo ottavo secolo che viene attribuito al venerabile Beda al grande studioso al grande dotto insulare diciamo inglese ma probabilmente non è suo e questo testo è una bellissima descrizione dei magi anche se è pure scritto in un latino difficilmente accettabile oggi le professoresse presenti probabilmente venirebbero di rosso e di blu io ve lo do in traduzione i magi sono coloro che offrirono doni al signore si dice che il primo sia stato melchior vecchio e canuto con barba e capelli lunghi vestito di una tunica colore del giacinto un mantello colore della mela cotogna mileno non vi dico quanto ci ho messo a capire se l'avete visto milenus ma passando dal greco si capisce il colore della mela cotogna con i calzari misti di colore giacinto e bianco in testa un berretto in tessuto di fili colorati ripensate un po' anche al non so se posso tornare vedete che hanno in testa dei berretti splendenti quindi è un po' questa l'atmosfera che evoca questo adesso offriva oro quindi Melchior offriva oro come si offre ad un re il secondo di nome Caspar giovane ancora e in berbe rubicondo vestito di una tunica colore della mela cotogna anche lui un mantello rosso e dei calzari colore del giacinto onorava dio con l'incenso come si onora dio il terzo nero interamente barbuto di nome Valdasar con indosso una tunica rossa un mantello spruzzato di bianco piedi avvolti da calzari colori della mela cotogna anche questo attraverso l'offerta della mirra manifestava che il figlio dell'uomo era destinato a morire tutti i loro abiti erano di seta bellissima descrizione perché qui sono diventate persone perché Melchiorre è vecchio e canuto barba capelli lunghi poi tutti i colori dei vestiti dei calzari dei berretti eccetera invece Caspar giovane in berbe rubicondo c'è un bel aspetto Caspar giovanile anche lui vestito riccamente eccetera il terzo è nero questo è interessante perché anche nella tradizione del presepio se ci fate caso c'è un mago nero quindi qui siamo nell'ottavo settimo secolo e fa la sua comparsa il fuscus il nero e poi questo è anche molto interessante perché spiega il significato simbolico che viene attribuito ai doni offriva oro come si offre ad un re ormai anche il bambino è diventato un re onorato da questi re è un re anche lui il resto è il figlio di Dio quindi poi gli offriva l'incenso come si offre a Dio l'incenso serve a onorare Dio e poi la mirra che era utilizzato nella conservazione dei cadaveri la mirra e questa manifestava il fatto che sarebbe morto sarebbe morto sulla croce per noi quindi c'è un'interpretazione molto molto complessa sia figurativa sia personale coloristica simbolica cioè in realtà è scritto in questo latino incomprensibile però è faticoso più che altro però è estremamente bella perché sembra di avere davanti agli occhi io penso sinceramente che questo è un testo tradotto dal greco perché ci sono troppi grecismi di qualcuno l'autore greco che stava descrivendo un mosaico stava descrivendo un mosaico simile a quello di Santa Pollinare e quindi si ispirava a queste figure e poi le descriveva ci resta quindi questo piccolo enigma del del nero e anche qui è la risonanza scritturale funziona sempre attraverso il riferimento delle profezie di nuovo questo è di nuovo il salmo di David che dice davanti a lui si prostreranno gli etiopi e i suoi nemici leccheranno la polvere i re di Tarsi se le isole offriranno doni questo l'abbiamo già visto i re di Arabia e Sava porteranno doni lo adoreranno tutti i re e le genti tutte lo serviranno qui abbiamo come abbiamo già visto i doni abbiamo i re quindi si è già configurato abbastanza il si configura si capisce che da qui abbiamo tratto quest'idea dei magi che sono re e che sono proprio questi profizzati da Davide che vanno da Gesù però qui ci sono anche gli etiopi gli etiopi probabilmente sono all'origine del mago nero del re nero perché si parla esplicitamente di etiopi quindi ci sono anche i re in gioco stavolta non sono soltanto i re di Arabia e di Saba ma di Tarsis ma anche dei neri quindi probabilmente è questo lo spunto che ha dato anche ai primi cristiani e poi soprattutto dopo nell'interpretazione allegorica del Vangelo la creazione del mago che in genere è Baltasar che è nero ora sempre per evitare le trappole del buonsenso in realtà i magi di nomi ne hanno avuti moltissimi perché Pierocomestore grande erudito della della fine del IX secolo spiega che i nomi dei tre magi sono in ebraico Appellus Amerus e Damasius quindi qui proprio siamo in un altro mondo in greco sono Galgalat Magalat e Sarachim in latino Baltasar Gaspar e Melchior quindi in realtà si danno delle varianti anche narrative anche nell'onomastica dei magi è una tradizione talmente ramificata che è chiaro è quello che potevamo aspettarci vorrei concludere con una riflessione che è questa i magi sono sicuramente i personaggi più fantasiosi più brillanti più esotici che ci siano nella tradizione della natività non solo ovviamente in quella figurata che dura come abbiamo visto dal terzo secolo dopo Cristo ma anche in quella del presepio in cui sono le figure più come dire più individuate ma anche più fiabesche le magi sono il fiabesco che entra nel presepio così come il fiabesco che entra nella natività ora è molto appassionante vedere come questa tradizione così fiabesca in realtà nasca dalla speculazione allegorica e teologica dei dotti cioè quello che a noi nella rappresentazione della natività sembra la cosa più fantasiosa più popolare anche uno si aspetterebbe che i magi fossero creature della tradizione popolare e sicuramente in qualche sciagurato libro sul presepio lo leggerete prima o poi perché si tende ad attribuire tutto questa fantasia creazione popolare in realtà non è così in realtà qui le figure di questi magi i nomi eccetera nascono tutti all'interno di una tradizione dotta e di una tradizione teologica e questo è la la stessa sorte che hanno anche il bue e l'asinello e con questo vi lascio il bue e l'asinello sembrerebbero ancor più frutto della fantasia popolare e certo la fantasia popolare le accoglie volentieri questi due animali che scaldano il bambinello con il loro fiato eccetera eccetera in realtà tutto parte dalla mangiatoia che sta nel Vangelo di Luca perché il solito origine vedendo che c'è una mangiatoia nel Vangelo trova una profezia di Isaia che dice il bue riconoscerà la mangiatoia del suo padrone l'asino non la riconoscerà e quindi dice vedete Isaia aveva già profetizzato la mangiatoia in cui sarebbe nato il padrone del mondo questo è il gioco il bue e l'asino lì ci entrano per così per caso in qualche modo perché Isaia parlava di un bue e di un asino dopo un po' questa profezia di Isaia comincia a entrare nella tradizione e pian piano già a partire dal quarto secolo dopo Cristo si vede un asino e un bue chini sul bambino dopodiché questo diventerà quello che è per noi il bue e l'asinello del Vangelo ecco ma è abbastanza appassionante vedere come queste tradizioni così semplici così fiabesche e come tale così appassionanti in realtà nascono all'interno elementi allegoriche elementi scritturali di questi grandi dotti cristiani dei primi secoli vi ringrazio grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti